Amici di POS, finalmente dopo giusto due mesi dalle elezioni abbiamo il piacere di stare in compagnia col portavoce del Movimento 5 Stelle dell'Alto Tireno Cosentino. Buonasera, dottor Misiti. Buonasera, dottore. Abituato a passare il microfono, stasera siamo avvantaggiati. Dottore, io non le domando come andrà per quanto riguarda il discorso governo, perché è talmente ingarbugliata la situazione, però una domanda gliela vorrei fare perché in questi giorni moltissimi amici mi domandano ma che fanno i parlamentari, i senatori in questo momento di stand by della politica? In questo momento si studia, è fondamentale studiare e capire i meccanismi della macchina burocratica che ci aiuterà, speriamo ancora prima di più a governare, ma adesso cercheremo di capire, però è fondamentale capire lo svolgimento delle pratiche burocratiche, capire come funzionano le commissioni, cercare di capire quello che è il sistema Parlamento. Nel caso non si dovesse arrivare a un governo a cui partecipa o comunque a guida pentastellata, c'è già un progetto di come si farà opposizione? Anche se può sembrare stupida la domanda, perché non si trovano alternative, la destra da sola non ce la fa, il PD sarebbe fuori gioco da solo? Ma in verità le devo dire che non c'è un programma, quello che ha sempre detto Di Maio è che si sono fatti dei punti, dei punti che sono stati anche analizzati dal professor De Cananea e si cercava dei punti che fossero dei punti d'incontro con gli altri programmi. C'è stato decisamente un forte ostracismo da parte sia del centro-destra che del centro-sinistra, il quale si è addirittura auto-eliminato con la dichiarazione di domenica scorsa di Renzi, il quale ha dichiarato di non assolutamente voler partecipare a qualsiasi tipo di trattativa. Ora è difficile dire quello che succederà da qui a qualche giorno, da qui alla settimana prossima. È probabile che il presidente Mattarella abbia già le idee chiare o se non le ha chiare e cercherà di risolvere il problema nel più breve tempo possibile, questo è sicuro. Dottore, noi eravamo partiti per farle delle domande sul territorio, per chiedere aiuto per quanto riguarda la situazione sull'Alto Terreno Cosentino e chiaramente anche noi siamo in stand-by perché il suo ruolo definitivo non si conosce ancora e quindi aspettiamo con un'ansia che succeda qualcosa di buono. L'ultima domanda per lasciarla in pace perché so che dei suoi amici la attendono. Onestamente, secondo lei il popolo pentastellato ha intuito la manovra che ha fatto Di Maio per quanto riguarda il tentativo di alleanze oppure ha creduto nella presunzione di voler fare a forza il leader? Una domanda sintetica che però ha avuto più punti. Allora, le rispondo per quello che è la prima delle domande. Non sappiamo se è vero se andremo o meno al governo ma sicuramente l'impegno per il territorio è il punto di partenza con il quale noi ci siamo salutati prima delle elezioni ed è sempre il mio punto di riferimento, sia che si vada al governo sia che non si vada. Il territorio per me è importante e devo assolutamente essere a disposizione del territorio per quelle che sono le mie possibilità, sia che si vada al governo sia che si vada all'opposizione. Per quanto riguarda il popolo pentastellato non penso che abbia mai parlato di alleanze Di Maio. Il leader ha parlato sempre di punti programmatici sui quali cercare di avere non degli alleati ma dei riferimenti con i quali lavorare per la nazione, per il bene comune. Questo è stato sicuramente il discorso che ha sempre posto avanti, ha fatto e messo prioritariamente Di Maio come riferimento. Non penso che sia un presuntuoso. Penso che abbia le idee chiare ed è una persona che è animato da uno spirito di servizio nei confronti dello Stato italiano al quale è riconoscente dei voti che ha avuto. Lui ha accettato una candidatura di servizio per il bene comune, per il bene del nostro Stato. Tutto questo non è stato gradito, ma non dai 5 Stelle, ma da chi ha fatto una legge prima che ha impedito qualsiasi forma di governabilità, sapendo quelli che sarebbero potuti essere le evoluzioni del voto. Quindi in ultima analisi lei pensa che gli 11 milioni e mezzo di voti dei pentastellati avuti dal Movimento 5 Stelle restano tali nonostante il trambusto che c'è stato in questi due mesi? Assolutamente. Gli 11 milioni e mezzo di voti sono la manifestazione di una volontà di cambiamento e Di Maio di questo ne è consapevole e tenendo rispetto a queste persone che lo hanno votato, che ci hanno votato, farà di tutto perché venga rispettata la loro volontà di cambiamento. Ora, se questo cambiamento lo si potesse fare governando sicuramente sarebbe più facile. Se non lo si riuscisse a fare da parte fondamentale del governo sicuramente si troverà il modo per farlo dall'opposizione. La ringrazio e le auguro di rincontrarci con qualcosa di nuovo all'orizzonte rispetto a oggi. Grazie ancora. Speriamo un bene, grazie.